Grazie tantissimo Grazie Giulia Bassalamano Ok This is the big stage and as you can guess here is where all the performers usually are. Dancing, we have like poetry readings, music of course or lectures. Sometimes on the weekends we just watch movies here or have like film festivals and stuff like that. So it's quite a popular place to hang when we have activities. And as I said before, most of our activities here are based upon your wishes. The people who come here, the youth, their wishes, what they want to do and they do it. With some help from us financially and our knowledge, but they do it. They do the posters, they do the PR for the event, they book the bands and stuff like that. So we try to do, we try to help them, but we don't do it for them. They do it by themselves. That's our motto. And we also have a dance room for all activities. I'd like this room. So this is like an all activity room. You can play ping pong or soft tennis. But mostly it's used for dancing, as you can see. We have workshops here. We had one last week with the popular choreographer from Stockholm. We travel down and the people from all over Halland, the county, came to dance in two days with this lovely choreographer. And it's for free. So we do have workshops sometimes. And if you have your own ideas, you know, I want to try to dance dance hall or mambo or salsa or whatever. You can talk to us and we can help you get a workshop here. Who has dance hall or salsa or mambo. Or you can now come look this place and dance for quick. One hour at a time. Bring your own music like your CD or your MP3. Put on the music and just dance. So that's what this room is working for. I'm going to take you for a while. I'm going to take you for a while today. You and Max계高man's family. I'm going to take you for a while today. Come on. Come on. Come on. Come on. I'm going to be a break. How many children? Do you do this work? I'm going to take you for a while today? Probably, and I'm going to take you for a while today. I go to the 15th of my life. How many people do this work? How many people do this work want to teach you? Who gives you a음 of your who lives? Do you? I want to say that. Questa città, come puoi vedere, non è bianca, come tutte le altre città in questa casa. Ci siamo lasciati la città bianca perché vogliamo l'influenza dei visitori, quindi che potrebbero mettere loro rappresentanti in questa casa. Questa è un esempio, avevamo una coppia qui, quindi alcuni bambini che avevano un gruppo, un gruppo di arti e crafti, vogliono pensare in questo gruppo, perché pensano che sembrava come un'hospitala, con la white walle, è molto sterile. Quindi avevamo un gruppo di artista di Gothenburg, che è chiamata Blu, è un gruppo di grafitti artiste e ha lavorato in New York. Quindi è venuto e ha aiutato queste ragazze con il loro processo creativo per fare questo ruolo. Quindi ora è una delle più belle ruole, una delle più belle ruole, per sottolineare qui in New York. C'è anche di qua. Ma questo come l'hanno fatto? Con i graffitti, credo. Perché ci sono delle persone specializzate in questo. Ah, sì. O se hai il vostro computer, abbiamo il Wi-Fi gratuito, quindi puoi stare a qualsiasi casa e andare a Facebook, o a Spotify, o a quello che vuoi fare. Eh? Allora. Questa è la zona di spettacolare. Abbiamo diverse artesfetture qui, da a volte, e in prossima, in circa due settembre, vi farò di una nuova attivazione qui, con il concerto, è un mix, quindi se sei un fotografo o un artista, puoi prendere i panni qui, quindi i miei potrebbero guardare, potrebbe diventare un nome in questa città, potrebbe diventare un nome per te, come un artista. Davide, l'exposizione. E' un po' di panni. E' un po' di panni. C'è un po' di panni, perchè è molto spettato lì, quindi puoi stare qui. E' un po' di panni, quando puoi stare a la stagione e vedere le persone qui. E' un po' di panni, come in l'Arena in l'India. Esatto. E' snowing! E' snowing! Oh mio Dio! E' snowing? E' snowing! 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 E io che ho detto? E' snowing! No, snowing! E' snowing! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! This is, come puoi dire, art and craft. Quella Merry Christmas! Art and Craft? No, I don't. si, in la prima manuare di la carica ok e quando questo era un'oltre, questo era il cittadino dove all'altro cittadino e voi vedere che ci sono le cose queste sono originali e il mosaico è originali quindi qui abbiamo e abbiamo un leader che è qui ha un'educazione in art e crafts che può aiutare se vuoi se vuoi scegliere, se vuoi usare se vuoi scegliere o se vuoi scegliere o se vuoi scegliere e è anche per free si può usare ogni settembre e usare questo ogni settembre o se vuoi scegliere in questa gruppa le persone che hanno scegliere le persone che hanno scegliere hanno scegliere ogni settembre per creare la casa cosa faremo fare next? faremo un seminario faremo un'eventa faremo un'eventa dove possiamo fare un'eventa di freddo se vuoi scegliere se vuoi scegliere se vuoi scegliere con me e qui è l'art leader ok una domanda una domanda è una domanda che si vuoi scegliere anche per esempio per esempio perché in Italia ci sono queste sono queste che sono e sono molto tipica per le loro quando si creano si si non so come dire ma non piace questo è questo è questo è così è anche per più più sono studenti 16 18 ma abbiamo anche persone che sono persone hanno un'interesse che sono che si si l'ottima cosa questo è non che posso ora cosa abbiamo la porta la porta la porta non la porta è è è è è è è è una è è è Sì, è da vecchio baggiato. Quello è di Stefano. Che peccato, va, cominciamo a vedere. Si basso, non è? Devo essere io. No, no, no. Sì. No, no, no. Sì. 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 Sono molto felice di stare qui. Perché credo che le persone suoi svetlali sono molto organizzati sulle generazioni. E... Ehm... Ehm... Oltre è snowing. Guarda, guarda. Oltre è snowing. Ma qui è molto freddo. Perché abbiamo molti amici. Ciao. Abbiamo molte delle fabbriche e cose così. Ci sono molto freddo che. Voi. Pappa è un valore. Se hai e il beatabile qui? Sì. È l'abb gym. Sì. Quittà cosa freddo? Si molto樂 per fare. C'è un pollo, con giù. Un pollo anche. Sì, un pollo. Gli piace molto, sì. Un pollo. l'amore o l'amore? l'amore l'amore tengo una tinta mi una tinta es una tinta lampinada es una tinta está en enga parce podemos ver hay que ver hay que ver diferentes payas As long as you don't offend anyone with what you're painting Cristina, il paradiso di Dalton Anyone has any questions before I move on? One question We had this experience of a democratic war And we had this fantastic moment of conflict Notare che c'è una scala al gatto nero vicino Una scala al gatto nero vicino E Stefano pure No, scherzavo lei So how you manage? So it's almost complete? Well, I think we always have a leader here So they can paint here if we don't have, like, adoption And then it's, I don't know how to do it But I think it's debatable Like, okay, what are you going to take away And what are you going to bring to this wall? No, no, sta dicendo che c'è sempre comunque un leader qua And everyone knows this is not forever You know, when you paint here you know This is very important Yeah, so they know So they know And it's not personal if it goes away Yeah, exactly So But 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 By this We haven't had this wall To So So Look at this You can't see This one But This one Questo è il topo, è quello che chiamiamo un media labo, dove puoi fare foto e usare un video camera. Il primo quarto è il nostro video edizione. Puoi prendere questo quarto per editare qualsiasi film. Quindi puoi fare una piccola, ma puoi vedere se vuoi. Non so nulla cosa sui programmi, ma credo che abbiamo un programma di Mac. E abbiamo anche un leader qui ogni settembre che può aiutare. Quindi non bisogna avere un pre-knowledge per essere qui. Perché abbiamo qualcuno che conosce molti di foto e che può aiutare e insegnare come i programmi, i computer e i video camera funzionano. Come in, Giulia. Stefan. Come in, io devo entrare ancora più, penso che tutti possono... Noi. Ok, questo è come un studio. Questa è la prima volta. Questo è come un studio studio o film studio. Quindi puoi venire e usare la nostra camera e la nostra video camera. E come usare i flash e i luci per fare le belle foto che puoi. O come le foto che puoi, o come le foto che puoi. O come le foto che puoi. La foto che puoi buon i fotografici per ora, quindi posso mostrare le foto. E abbiamo anche un giro. Abbiamo i file spettacolo in ogni parte per i computer. Quindi puoi fare alcuni filmi sul giro. E poi fare anche uninenza del Star Wars o un avvatar o qualeохanee. so this is that room you can take all the pictures and this is the place we can sit and cut your pictures to your collages or whatever you want to do some pictures we try to hang them up so other people can get inspiration so that's what this room is for or if you want to do your own like that page or something you can do it here and then you are supporting me by printing yes if it's a festival on this house then you can do your poster here you can get help from Joachim so everything you do here you can do almost from scratch take the photo to your poster do your poster print your poster like that yes because you get when you do an event here you can you get money from us financial aid so you can do your event so this is the top floor and now we're going to go down to the basement so so just follow me down now down stairs it's going to be like a labyrinth it's hard to find because when this was the library you know when this was built they didn't think of the user friendly just follow me okay we are going on the down stairs oh I'm sorry if you wanted the person the稱 is for the little boy to go and it's really cool but it's really sad the girl is so sad but it's so sad but it's so sad so that's why that's what the qui puoi recordare? sì, esattamente quindi, come hai detto, questa è la sala musica per essere qui devi sapere come usare le cose quindi puoi prendere tre corsi qui ogni secondo mese, io credo che abbiamo con la studio tecnica che vi mostrerà come questo studio e quando passi, puoi essere qui puoi bookare questa sala, come la danse o altre, ma devi avere un'occhiata quindi puoi prendere i corsi qui per free e abbiamo tutto l'equipmento all'inizio è lato, come le microconi quindi puoi recordare la band o se sei un hip hopper, puoi recordare le beats e le rapsi e le cose e scrivere le lyrics e questo si puoi bookare ogni volta che abbiamo open per due ore a una volta e ora, questa fall break abbiamo fall break per 1 novembre, credo i credo as una band o as una due o quattro 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 ma повso d'88 ma ovviamente Dessa c'è C'è uno di quattro ruoli che puoi comprare qui, e hanno lo stesso equipamento, con un brano, una bassa, due gitarze, e si prendono il microfono quando puoi comprare, e questo ruolo è speciale perché ogni tuesday e tuesday abbiamo questi cerchi di studi, con un tutor che può insegnare a te giocare o che può insegnare a te giocare, e costa 10 euro per anno E questo è un progetto perché questa organizazione e noi vogliono avere più giovani in musica, perché quando si guarda le ruoli all'interno del mondo, c'è molti e molti ragazzi che regalano e questo è un progetto di più giovani in musica e questo è un progetto che può insegnare a te giocare e non vogliono fare nulla, non vogliono perché le ragazzi lo facendo comunque, le ragazzi non possono e se non possono, non possono quindi questo è un progetto di più giovani in musica Le cose stanno cambiando anche in Italia le giovani stanno spostando di giocare specialmente in diverse cose come baterie, drum perché tipicamente erano cantanti quindi la ragazza è cantante ma ora stanno spostando più e più quindi cosa stanno spostando? I play guitarist Oh, guitarist che è molto bella quindi tu sei qui tu? Ti sposti? non qui al piano al piano e tu? al piano al piano e tu finisci Questa è stata un po' di uomo di junti. E' un po' di mancanza. Mi sono andata in casa, mi sono andata in casa. Questa è un'all of purpose. Potete avervi un'organizzazione che piace a play video games or board games and card games they are here sometimes but mostly this is used as a movie room as you can see and you can borrow movies from us we change we have like for free of course or you can bring your own movie if you want it so if you have a space small or if you don't want to put people on your couch just come here and watch do you have any problem with the company of the cinema and stuff no we have license deal like you see there no no i mean people going to the cinema anywhere yeah we have it's quite popular in sweden to go to the cinema with dark and cold here we go we go lots to do and now when 3d's come oh my lord i think we will be able to do that help me i'm still here help me 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 Pagliamo questi 2 euro, dormiamo qua così non dobbiamo risvedersi Ma ne fanno qua anche 10 euro Me ne frega niente Le donne mi do 200 euro Dai, paghiamo Sì, ma io te lo faccio Sì, ma io te lo faccio Prenotiamo la... Grazie a tutti Grazie a tutti